Promuovere il turismo attraverso la valorizzazione di più elementi, la filiera corta dell'enogastronomia, la qualità delle produzioni artigianali e la specificità dello stesso territorio. Questo è l'obiettivo di Vetrina in Toscana che in provincia di Arezzo celebra l'anno nazionale del cibo italiano con due iniziative. L'obiettivo di Vetrina in Toscana è un progetto della regione toscana assieme a ogni camere regionale, ovviamente poi declinata nelle singole camere provinciali, che ha l'intento attraverso delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio e quindi della provincia di promuovere la ristorazione locale e quindi con una ricaduta dal punto di vista turistico particolarmente importante. Sono 70 i ristoranti che aderiscono, 7 i comuni della nostra provincia che aderiscono e attraverso dei menù tipici, attraverso delle degustazioni di vino di eccellenza, il tentativo è quello di animare ancora di più i nostri centri storici. Intorno alle rotte del gusto, intorno alle rotte del vino si muovono ormai oggi tantissimi turisti e il richiamo che noi vogliamo lanciare è proprio quello, scoprire i nostri centri storici passando anche da questo straordinario gusto che può offrire il nostro territorio della provincia di Arezzo. Dal 28 al 6 dicembre la provincia di Arezzo ospiterà la prima iniziativa di sfida delle eccellenze e le cene del gusto, con 7 appuntamenti nei ristoranti che aderiscono alla rete Vetrina Toscana. Beh, ci saranno chef, agri-chef toscani e agri-chef che fanno anche parte di agritour che vengono da altre regioni che si incontreranno e cucineranno assieme prodotti ognuno della propria regione e della propria zona e non solo ma questi prodotti verranno messi a confronto nei piatti, quindi non saranno uno fa un piatto o uno fa un altro, anche nello stesso piatto si incontreranno. L'altro appuntamento è quello con il trekking enogastronomico in Valdambra, organizzato dal comune di Bucine in programma dal 13 al 14 ottobre. L'obiettivo è quello di promuovere e valorizzare attraverso un gesto semplice come quello del cammino le eccellenze della Valdambra.